Come anticipato parliamo di sostenibilità ma da un punto di vista leggermente diverso, ovvero la moda sostenibile. Siamo qui con Giulia Perin, che innanzitutto benvenuta. Grazie, grazie mille. Giulia Perin è la curatrice di questa mostra, Verde Trama, che c'è ormai da due anni qui a Flor. Raccontaci un po' che cos'è Verde Trama, come nasce. Allora, Verde Trama nasce dalla volontà di creare uno spin-off all'interno di Flor che parlasse sempre di sostenibilità di natura ma attraverso codici merceologici differenti. Quindi è stata scelta la moda, visto che ha chiaramente un impatto sull'economia e quindi anche sulle risorse del territorio molto forte. È stata scelta proprio perché è uno dei temi fondamentali, soprattutto in Italia, un motore economico sicuro. Quindi negli anni abbiamo cercato di farlo crescere, di aumentare i contenuti con anche talk, con anche la possibilità ai nostri brand di parlare di quello che è per loro la sostenibilità e come l'hanno resa concreta all'interno proprio delle loro produzioni. Io e Corinne prima siamo andate a curiosare negli spazi di Verde Trama. Abbiamo visto una signora che faceva un gomitolo alla maniera di un tempo, quindi con un attrezzo che girava mentre le produceva il gomitolo. Abbiamo visto dei vestiti con delle stampe di fiori. Abbiamo visto dei tessuti che forse sono nuovi, tessuti di bambù, tessuto di canapa. Sono dei tessuti che probabilmente un tempo non c'erano ma che adesso stanno arrivando e che sono molto apprezzati. Sì, in realtà non è niente di nuovo ma è una cosa molto rivoluzionaria, cioè quello di riportare la tradizione nella contemporaneità. Quindi sono quasi tutto, a parte il bambù, fibre e realtà, che fanno parte appunto della nostra tradizione tessile, se pensiamo alla canapa, all'ino, all'ortica e vari altri, proprio che appunto venivano prodotti in tutte le nostre campagne in realtà. Quindi riportare quella che era la tradizione in un mercato contemporaneo in cui il poliestere, in cui tutta una serie di fibre e di sintesi di derivazione del petrolio sono state immesse in modo assolutamente massivo nel mercato, cercare di riportare quella che invece è la nostra tradizione è sicuramente un atto di coraggio molto grande. Quindi, come hai detto tu, c'è una produttrice che si occupa di tutta la filiera della lana, lana locale, e quindi poi appunto che termina con la filatura del filo, quindi delle fibre della lana, attraverso questo strumento che è l'ercolaio, che appunto era uno strumento che le nostre nonne utilizzavano nelle sere d'inverno abitualmente, piuttosto che la tecnica delle coprinti, quindi la stampa botanica, quindi prendere delle foglie e dei fiori che trasporgono il loro colore sul tessuto e lo rendono quindi unico e che raccontano proprio anche una storia botanica del nostro territorio, piuttosto che l'intimo realizzato appunto con la viscosa del bambù, quindi anche portare all'interno del discorso tradizione e sostenibilità anche delle fibre che sarebbero diciamo aliene per quello che è la nostra endemia, ma che in realtà anche con i cambiamenti climatici e quant'altro diventano in realtà piante assolutamente impapabili nel nostro territorio e che quindi in realtà riportano appunto una commissione nuova. Uno dei temi importanti insomma regato alla sostenibilità ambientale è il tema dell'inquinamento da plastiche e in effetti questi prodotti naturali non rilasciano le famose microplastiche nei momenti dei lavaggi, nei momenti della produzione, della creazione. Sono prodotti bisogna dirlo forse un po' più cari rispetto a quelli dell'offerta internazionale mondiale, ma lo sono proprio perché hanno delle caratteristiche molto specifiche, sono prodotti molto durevoli che durano nel tempo, sono prodotti ecologici e sono prodotti che derivano da una lavorazione del territorio forse un po' più particolare rispetto appunto a quelle della grande massa. Sì assolutamente, questo è un tema fondamentale. Purtroppo l'inquinamento della moda non è solo dato nelle fasi di produzione, quindi di tintura, di confezione del tessuto e poi anche del capo, ma purtroppo anche ogni volta che noi mettiamo in lavatrice i nostri capi, perché queste microplastiche si staccano dall'abbigliamento e finiscono direttamente nelle falde acquifere, quindi nei mari e questo ha avuto un impatto negativo che già stiamo vedendo in modo fortissimo. Le fibre naturali, per esempio, sono anche biodegradabili, quindi se noi lo andiamo a buttare in un campo dopo qualche anno, qualche decennio, quel capolino non esisterà più e non avrà lasciato nessun impatto negativo sul suolo. Quindi anche questa è una cosa importante. Noi dobbiamo ricordarci sempre che purtroppo il suolo vergine è sempre minore, è sempre più antropizzato. Le discariche di tessuti, come sappiamo benissimo, in Cile e in Africa, sono sempre più grandi e stese e quindi sicuramente, è vero, sono capi più cari, però bisogna anche a volte agire secondo coscienza e non solo pensando al mero denaro. Quindi comprare meno, comprare meglio è sicuramente lo slogan fondamentale. Sì, Verde Trama è proprio questa occasione, una delle occasioni per cambiare il proprio approccio all'acquisto di vestiti, anziché volerne avere tantissimi e quindi poi ricorrere a questi indumenti che costano meno, hanno una qualità scarsa e sono anche inquinanti, capire che vale la pena invece investire un po' di più, comprare meno capi che non solo inquinano meno, ma poi sono anche migliori proprio per la nostra pelle. Sì, assolutamente, perché poi c'è un altro discorso ancora sulle tinture di sintesi, che essendo il nostro derma comunque una spugna assorbe quello che gli viene messo sopra, quindi sicuramente diventa un problema anche per la salute umana. I capi fast fashion non sono controllati, non si sa che cosa uno si sta mettendo addosso, l'unica cosa che sa è che è costato poco. Eh sì, l'acquisto consapevole fa parte sempre della sostenibilità ambientale di cui tanto parliamo e che poi però a volte fatichiamo a mettere in pratica nella nostra quotidianità. Grazie mille Giulia, allora invitiamo tutti coloro che visiteranno Flor oggi pomeriggio, domani, tutto il giorno, a passare, diciamo entrando nella palazzina di caccia di Stupinigi, nell'ala destra, dove appunto c'è questa grande esposizione di tessuti, di prodotti di vestiario, Verde Trama lo trovate proprio qui. Grazie Giulia, buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti.